Ciao a tutti, eccomi qui con i capelli freschi di taglio e come ogni volta quando vado a tagliare i capelli cerco di fare un video perché insomma mi piace che siano belli in ordine e così ho sempre voglia di fare un make up look con il taglio nuovo. Oggi voglio utilizzare la Miss Palette di Mulac, in particolare il giallo, vediamo cosa riesco a fare e poi voglio utilizzare un colore che non sono solito utilizzare sulle labbra ovvero un rossetto con un po' di fucsia sempre di Mulac, insomma vedremo cosa ne esce, posso sempre cambiare idea. E niente quindi nulla o quasi di nuovo giusto per truccarci un po' insieme lancio la sigla e comincio. Il primer occhi stavolta è quello di Astra e vado subito di palette e vado a sfumare Forever sopra la piega Non troppo, come vedete mi aiuto con un pennellone cicciotto. Questo è il numero 302 di Nabla Ok, scelgo adesso il protagonista del look che è Carrie ed è l'ombretto giallo e lo applico principalmente nell'angolo esterno ed interno dell'occhio No, facciamo su tutta la palpebra E lo vado a sfumare Per intensificarlo un po', soprattutto nella parte più esterna, vado a scegliere Hot & Spicy in quantità proprio minima E come eyeliner inizio con questo color Senape di Neve Cosmetics che si chiama Assam Voglio provare ad applicarlo per tutta la riga Però forse forse vado a sfumarci un po' di grigio alla fine Vediamo, intanto parto con questo E per sfumarlo scelgo Cold Nights Come vedete anche il color Senape comunque si è oscurito molto e questo è il risultato Passiamo al viso e scelgo il Vitamin Glow di Smashbox E come correttore il Dorian di Mulac nella colorazione Masquerade Come fondo lo 0-4N della linea D'Universal Foundation di Astra Che come faccio ultimamente vado ad applicare con la blender Come sapete questi fondotinta non sono super mega coprenti Forse Astra con questo ha un po' anticipato i tempi Non è proprio una crema colorata perché comunque la coprenza c'è Ma è decisamente più leggero del Transformist Fatemi sapere se voi preferite questo tipo di fondotinta Luminosi ma comunque un pochino più leggeri e meno coprenti Oppure se avete bisogno, insomma preferite di una coprenza totale E visto che ci siamo come vi chiedo sempre Iscrivetevi al canale e se vi va attivate la campanella Sapete che per me è molto importante Molto importanti sono anche il vostro pollice in su e un commento Quindi vi aspetto qui sotto E nell'info box potete trovare anche tutti i link ai miei social Vi basta cliccare e vi ritroverete subito ai miei profili Quindi vi aspetto dappertutto E vi ringrazio se lo fate So che lo dico sempre però davvero per me è super super importante Come sempre nella zona sotto l'occhio vado ad applicare un po' di cipria Stavolta scelgo la Finish Line di Marc Jacobs Possiamo quindi tornare agli occhi E inizio applicando carry anche vicino alle ciglia inferiori E sfumo un po' con Forever Nella prima parte di palpebra proprio l'attaccatura delle ciglia Vado invece ad applicare Cold Nights in modo da riprendere l'eyeliner Vi consiglio di scaricare bene il pennello Perché questo colore qui fa fall out Il mascara è di Essence Questo qui Il Define Volume Che è un po' difficile perché ha uno scovolone bello importante Ed è un peccato perché il mascara Essence sono sempre molto validi E questo è un po' secchino E quindi se ci fosse uno scovolino un po' più piccolo Forse si riuscirebbe a lavorare decisamente meglio Anche perché mi sporco sempre la palpebra Niente mi sa che un tocco fluo ce lo metto E scelgo questo ombretto di Wicon Della collezione dell'anno scorso Che si chiama Lit Up Red E qualsiasi ombretto fluo Anche fucsia va benissimo Io scelgo questo Anche per cambiare un po' E lo porto qui Riprendo poi la palette Come tocco luminoso vado a scegliere Donna Come bronzer vado ad applicare questo di Wet n Wild Che si chiama What Shady Beaches E come vi dico sempre Se avete i capelli corti o raccolti Sfumate bene anche verso le orecchie Così non si vede lo stacco Anche stavolta per le sopracciglia Soap brown E anche stavolta vado ad applicare L'Unbeliever Brown di L'Oreal Ok Sulle guance il duo di Fenty Beauty Anche stavolta Però nelle colorazioni Mimosa Sunrise e Sangria Sunset Secondo me il duo più bello di Fenty Beauty Ma in generale Il duo più bello Il viso Che sia stato creato Sia per i colori Sia per il finish Poi si può utilizzare tranquillamente Anche sugli occhi Quindi è davvero ottimo Spero ci sia ancora Ok Terminiamo con le labbra E anche qui voglio fare un esperimento Inizio applicando Un'altra delle matite di L'Oreal Della linea Color Rich Rich Questa è la 126 Excuse Moi E è un color paprika Praticamente E ci vado ad abbinare insieme Questo rossetto di Molac Della linea Cream Last Nella tonalità 04 Nesty Che è sul fucsia Voglio fare una sorta di Ombreggiatura Un po' estima Ok Questo risultato Ho applicato la matita su tutte le labbra E poi un po' di rossetto Non so quanto mi convince Perché mi sento un po' Chi? Moi non fai E però Vabbè Insomma Lasciamo così Anche per cambiare un po' Dai soliti Nude marroncini E quindi questo è quanto Come sempre Fatemi sapere se il look vi è piaciuto E vi è tornato utile Se siete arrivati fino a qui Lasciatemi un cocktail In versione emoji Nei commenti Io vi saluto E vi aspetto alla prossima Ciao Ciao